Ciao, sono Matteo Gori della Gioventù Fidelista Europea. Per questo fuori programma vogliamo portare alcune proposte che per noi sono centrali per il prossimo Parlamento italiano e che riguardano la partecipazione democratica, una vera partecipazione democratica di tutti i cittadini e le cittadine in Italia ed in Europa. In Italia serve agire per abbattere quelle barriere che impediscono ad alcune fette di popolazione di accedere al voto, alle consultazioni, quindi di partecipare attivamente alla democrazia. Pensiamo ai 5 milioni di italiani e italiane fuori sede, pensiamo a una riforma della legge della cittadinanza necessaria per coinvolgere anche gli italiani di seconda generazione nei processi di consultazione e quindi non della democrazia. Ma pensiamo che anche a livello europeo sia necessario colmare questo deficit democratico, questo deficit di rappresentanza, perché serve necessariamente un Parlamento europeo che abbia una vera iniziativa legislativa e una commissione che sia un vero governo dell'Unione e che quindi non sia tutto in mano al Consiglio e quindi ai capi di Stato e di governo che seguono i loro interessi particolari. E quindi serve una riforma istituzionale a livello europeo, una riforma in senso federale, una vera Unione federale, una vera Unione politica, quelli che si possono definire Stati Uniti d'Europa, per far sì che a livello europeo non solo ci sia più democrazia, ma ci sia anche più capacità di agire nell'interesse dei cittadini e delle cittadine italiane ed europee.